Ciao ragazzi, oggi non siamo in garage, ho deciso di portarvi a fare un giro in moto con me e vi porto a vedere tutti, andiamo! Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Raga, ora ci mettiamo qua, proviamo a far volare il drone così cerco di farvi vedere dall'alto questo splendido paese Ora vi porto a far vedere il castello che è davvero spettacolare, forse l'avete visto mentre stavamo passando in moto ma ora vi ci porto a farvi vedere l'avete visto, ma ora vi ci porto a vederlo bene e vi porto a farvi vedere l'avete visto, ma ora vi porto a vederlo bene raga, ora vi porto lì Grazie a tutti 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 Grazie a tutti